Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo trentesimo episodio di Younger Games E poi Giuseppe Bene Ok appena parte so già dove si trova una bella cesta Io invece voglio che la gente ci incontriamo in un punto specifico della mappa Ecco Oltre passiamo quello la andate nelle rotaie intanto io prendo la cesta e visto che so già dove andare Ed è iniziata signori e signori ladies and gentlemen Ok io ho preso il pane Ok io sono già in mezzo alla caverna che sto andando a prendere la cesta Si ok io invece dovete aspettare gli altri Gai il tv è qua Giuseppe vediamo un po' dov'è Mi raccomando nella caverna che Ma chi cazzo se lo ricorda Filias corri Arrivo fra un po' Ok noi siamo già in tre Ma seguitemi Ok ecco dove siete Ok adesso dove è andato quell'idiota A prendere una spada d'oro Ok proviamo a indovinare Sto ritornando dentro la caverna Ragazzi mancano 30 secondi siamo fottuti Filias non andare lì che mancano 30 secondi So so andiamo via Tanto per giga moriremo No Avete preso il maskerci Per me io vi vedo davanti Eccolo 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 corrette corrette Dove andiamo Corri Andiamo belli Veloci Dentro qualche parte dai Allora entriamo di qua C'è anche un player Proviamo ad ucciderlo Sì Aia qua siamo nella merda Eh io sto ancora più nella merda di te Ho bisogno di cibo Perché ho subito preso una bella spada Attenzione là sopra Ma chi aveva il kit master Io Eccomi Mazzato Mazzato Fermi 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 Attenzione Andietro figlias Che mi dareste cibo? Anche a me Allora se venite qua ve lo do Attenzione E dove sei? Aspettate Vi vedo io un attimo Sto vicino a Giga Crono Ok Che sto asset? Eccomi Qua sono qua Sono qua Gabe Ancora un po' Grazie Ok Allora Gabe Eccolo Che cibo Stai andiamo sull'albero Mi puoi dare un pochino Ok Mi dai un altro pezzettino di cibo? Ma perché non salite sull'albero prima? Eh perché io avevo disperato bisogno di cibo Allora ho fatto Mi salite sull'albero Allora tu hai Fermi 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 Da lì Se no vi ammazzo Mi chiamo a cazzo Ci vuole molta scienza Beh io and'è agitato Si ma che cazzo Ok Adesso salite Io sono qua sopra Vi aspetto Allora Io là vedo un bel maiale Gabe potresti mettere qua la fornace Che metto dentro due pezzi di porce Ok un attimo Ah ma voi siete sotto Arrivo Ma siamo già sopra No io ero più sopra Se guardi C'era un altro pezzo Salite più sopra Ok Aspetta un attimo Che sto andando a prendere Altro cibo Micchia 42 player Cazzo Ma tanto io devo sistemare l'avvento Micchia Oddio L'avvento Ok Porco Adesso quello Se ne va da solo No C'è un certo Zod Qualcosa Dove lo leggi? In basso Ci siamo tutti? Sì all'incirca Ma lui è dentro la grotta Boh non so dove cazzo è andato a finarsi No io non sono nella grotta No 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 Micchia Ce la consola Con so cosa o casa Ok Allora Mettiamo a cuocere ancora pezzi di maiale Scendiamo giù C'è nove Ah ok volete scendere Va bene No vai io rimango qua perché c'ho l'arco Ok osserva in giro se trovi qualcuno Io prima ho visto un player dovrebbe essere Eccolo lo vedo Ok io uccidi Chi è quello lontano? Non sei tu giga vero? No io sono sopra con te Vedo un altro stronzo Adesso Volete che lo vada a colpire? No 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 che hai poca vita No no ce l'ho tutta Chi è? È il gabbiom Qualcuno che sta salendo qua sull'albero Che adesso ucciderò amorevolmente Uccidilo Ok Fatto Aveva Aveva un kit minor suppongo E ce n'è un Ci sono un paio di persone cazzute da quella parte Dove c'era l'altro No cazzo C'è un paio Io ho la fornace andiamocene Cioè nel senso ho preso la fornace di cosa? Di Gabe Oh e Beyond io proporrei di andare di qua No cazzo Minchia Grazie Eh ma è portaputtana In mezzo Beyond Andava avanti Non è che adesso ti tiro una spadata Dicendoti eri in mezzo Io ho bisogno di cibo Attenzione là in fondo Ci sono zombie Andiamo L'uccidiamo? Sì andiamo Potrebbero darci qualcosa Io ho una spada in gold Dai che L'uccido C'ha poco ucciso Ehi guarda hanno ucciso tantissimi player Guarda lì qua Quanta roba Oddio quanta roba Guarda Archi di tutto Fantastico Sì ma scappate Sì sì adesso scappiamo Ma sono immortali per me No sono morti Attenzione dietro Chi è dietro? Aia mi ha dato fuoco Quello lì che c'è in fondo Cazzo mi ha dato fuoco Che fastidio Ok Sono vivo Oh chi l'ha preso in pieno? Oh chi l'ha preso in pieno? C'è uno che sta a scappare È quello dove seguire Sto andando a prenderlo C'è un villaggio di qua Eh ma fa Oh cacchio Chi è che mi sta colpendo? Ah Sto morendo di fame Sto morendo di fame Morto Bello Ti potevi accorgere prima Te lo davo Ah 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 Gente Vabbè io vado in uno Io vado in uno HG7 Titt Minchia qua siamo pieni di roba Beyon non potevi dire Aspettate sto morendo di fame Ma io non sapevo che se tu perdevi Per di Stavi morendo di fame Morivi del tutto Ma nello scorso episodio L'altro è morto per il cibo Per la mancanza di cibo Qua abbiamo di tutto Armature Vabbè continuate a giocare Io le mando da solo qui Nell'HG7 Ragazzi venite in questa In questa casetta E Giuseppe che sta morendo Cazzo Giuseppe per come mai sta morendo E c'era questo Le gne gne Che Gne 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 Oi venite nella casetta Mettiamoci nella casetta tipo Seguitemi Di qua di qua di qua Perfetto Non volete venire Bisogna stare attenti ai confini Quando si restringono Esatto Non volete venire Nell'HG7 Ma no perché siamo pieni di roba E possiamo vincere Allora Ma è bello Ma è bello di vincere E fallo in coppia Oi mettiamo Blocchiamo qui l'entrata Venite qua Ok Andiamo al piano di sopra A qualcuno di voi serve Un giubbotto con Oh cazzo Oh cazzo Ragazzi Spada di pietra Filatezza 1 Contra colpo 1 Chi vuole una spada di pietra Con una filatezza 1 Io vorrei per favore Tieni Grazie Ok perfetto Ho ancora 3 giubbotti Ah no scusa Pensavo avesse Oh oh c'è qualcuno C'è l'io 3 Andiamo a luducidere Veloci 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 Ok l'ho ucciso L'ho shottato con la freccia Quanta roba che aveva Pure lui Prendiamola tutta 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 Ok ragazzi Eccoci nella seconda parte Dell'Hunger Games Puntata 30 Visto che Ero morto Ma volevo aspettare gli altri Quindi c'è sempre Filiax Salve a tutti Però Chiamami Boxi Non Filiax Ah è Boxi Poi c'è Game TV Giuseppe Salve E Ma chi manca Giga Giga Crono Giga Crono Dove cazzo sei Sono di qua Eccolo lo vedo Ha bel modo di orientarci Verso la tua zona La tua postazione Dove sei? Ma perché direttamente A quel tipo Che vuoi invitare Di liebare l'HG5 No? Così almeno Eh Manco pure 50 secondi Sei tu le donne Tu non hai Sai cosa fai Chi è Happy Games Ma io avancio C'è Charmander 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 Adesso lui si offende Perché dice Ma io sono meglio Charmander Che schifo Boxi Boxi che se Gli piace Farsi inculare Da un Charmander Ci piacciono le cose focose A noi Charmander E va pro Sta iniziando No non è vero Stai mentendo Un secondo Via Ok non c'era un cazzo No Ti sembra che c'è un buco Ci buttiamo nel buco No Vediamo se ci vedo un altro Gigacrono è qua La prima volta che riesco a avere Gigacrono come primo Lorenzo No Lorenzo Non posso rispondere Come Gay TV Gigacrono Filias Sono qui Vado ad enchantare la spada E arrivo Gay TV Ok siamo qua vicini Piccoli Manca Giuseppe Giuseppe Sto arrivando Ok Scusatemi Eccolo qua Aiuto No è caduto Giuseppe è caduto No tu No Ok ragazzi Aiuto Andiamo qui Verso il fungo Ci sono i maiali qua Uccideteli E' pieno di maiali qua Ragazzi 20 secondi 20 secondi V'è cazzo Stati andando Uccidiamo i maiali Attenzione dietro di voi Ce ne sono già 3 di persone Dove sei Bayon Non ti vedo più Ok meglio se ci spostiamo da qui Qua 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 Via 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 Anzi no Uccidiamo la gente Qui 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 prima però Così capiamo Con chi cazzo Dovevo metterci All'attacco Aiuto Aiuto Mi chiacchia Chi ha ucciso Filiax mi ha ucciso Scusami Questo è in vita infinita Aiuto dai cazzo Gli ho buttato 50 frecce Era ciò che sto cercando di fare Ma non riesco ad ucciderlo proprio No mi sta uccidendo Non credo E mi ha ucciso Ma io gli ho buttato 5 frecce Ah è Crew Quello che ha vinto la partita di prima Che volevo insultare su Skype E tu hai detto No no Non invitiamolo Non insultiamolo Non voglio che lo insultiamo È quello che prima ci ha battuti tutti E non moriva mai Ok Adesso meno male Lo registrate Lo banniamo Così Ci riserviamo ogni problema Ogni dubbio Andate nell'HG8 Se ce l'avete Sì sì Ehi ma tutto viene bannato adesso Cioè ma come Ma non si vergognano Queste persone che fanno video così Cioè l'ho beccato Passateci almeno i cheat Scusate Cioè l'ho beccato 6 volte Non è morto manco una volta Che cazzo vuole Naruban? Eh ma sei visto Io gli stavo tirando talmente tante spadate Che poi ho detto Vabbè uccido anche i nostri compagni Che vergogna cazzo Andiamo sempre nella stessa direzione di prima Eh minchia Oh cica Masco sei zitto e basta dai Faccio io le coordinate Perché tu Dicevo andati in quella montagna E me è pieno di alberi Va bene Cioè Porca puttana Allora dobbiamo andare Ci incontriamo tutti quanti Dalla parte opposta dell'edificio Cioè a sinistra Ok È molto più semplice Capito figlia Dove siamo? Ma voi non vi vedo Io vedo solo un edificio Allora l'edificio Devi andare a sinistra Dietro di te figlia Cioè devi andare dietro di te L'edificio dietro Non sopra Sotto Beando tu sei qua E non c'è nessun edificio Ho detto Dalla parte opposta dell'edificio Vuol dire L'edificio lì Che cazzo ne so Tu dici anche a sinistra dell'edificio Figa Eh a sinistra dell'edificio Vuol dire dove sei tu Nell'edificio Quindi dove devi andare A sinistra Ok Appunto E sarebbe di qua A sinistra dell'edificio No No perché L'alternativa sarebbe Dal lato opposto Dietro di te Ho capito Ma ti sto spiegando Che non puoi dire A sinistra dell'edificio Perché sarebbe Qui Dove sono io adesso E andiamo tutti qua Dove c'è il mare Più avanti c'è una caverna Con una cesta dentro Ma dai Bruna Fica Esperta Votemata Vok Weiser Primiera Suta Puta Sono d'accordo Mamma mia Che maiali Che sono quelli Che vedono Una skin Di una donna Maddio Cioè Si arrappano Capito Cioè Oh Duke Nukem Ma adesso Mi viene voglia Mi viene voglia Di mandare un messaggio A quello lì Cittone Per cazzo Ah io l'ho aggiunto Qua in chiamata Su skype Prima Nessuno mi caga Una foto De naruto Una foto De naruto Questa vuol dire Una foto Di naruto Io sono Il vero Naruto Punga Punga Uno Con la skin Di crash Ok Ok Siamo pronti Yeah 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 No Mua Guardate Guardate Filias Che sei da lontano Aspetta Se non vuoi che ti chiami Filias Oh che cazzo vuoi tu Vai via Guarda Guarda L'unica donna Che adesso si incazza Perché non la sto cagando Di strisce Ok ragazzi Dalla parte opposta Dell'edificio Ma scendo Allora ci siete Si Io mi scatto nel naso Sempre in diretto Filias Si Si sta incertando l'arma Yes Fatto Oh Contracolpo Buono Ok io ne vedo Già uno Due Tre Arrivo Dov'è l'altro Aspettiamo Un attimo Cominciamo ad andare Che mancano 50 secondi Aspetta Aspetta Che stai venendo Anche Un attimo Che i tv Filias Si sono qua Dietro di te Arrivo Ok andiamo Aspetta Dov'è Gabe? Arrivo Vi vedo Veloce Ok andiamo Corri Corriamo 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 Dai che più avanti C'è una caverna 20 secondi Andiamo Andiamo Qui mi ricordo Che ero già morto No Bello Ti ricordi? Oh ragazzi A sinistra c'è uno Anche a destra Ovunque Vai Giuseppe ha scelto l'arco Ok l'ho ammazzato Dove siete? In cima alla montagna Che vi vedo Se da qua andiamo Verso la mia direzione Ce n'è uno Giuseppe Non colpire Gabe Già Ok ragazzi Ce n'è uno a destra Visto Attenzione Di dietro di noi Sì vabbè A velena sto qua Ma che figlio di troia Minchia sono morto Sono morto Ciao Ammazzato Ho mezzo cuore Se non ho cibo subito Muoio Ok Sono qua Dove sei? Dove sei? C'ho il cibo Anche a me ne serve Ok c'ho anche Costoletti Attenzione C'è uno Che è l'arco Uno con l'arco Me ne servirebbe ancora uno Beyond Oppure sono morto Vabbè io sono Mezzo cuore Eccolo 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 Corri Arrivo Ma dove cazzo si Mi sta ammazzando una mucca A me mi sta ammazzando uno stronzo Appena ricopro vita Vi darò una mano In alternativa Ciao Ma dai Ma faffanculo Cheesy Caspit Ma io Ma fa dentro amici in culo Ciao 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 No veramente è assurdo La gente uccide con pochi colpi Noto Oye ragazzi Per questo video è tutto Perché tanto loro stanno ancora giocando Io sono morto Sono già passati Anche io sono morto Anche io Quindi per questo video è tutto Un saluto da Bayon Community E Boxi di LNC E GabeTV È tutto Ciao a tutti